Musica Benvenuti in un nuovo video e finalmente benvenuti in un nuovo Mac Bang Benvenuti in un nuovo Mac Bang Era da tantissimo tempo che non registravo Mac Bang da sola E quindi oggi volevo provare insieme a voi, oltre a chiacchierare Ovviamente c'è anche mia sorella che sta pranzando Ciao a tutti Sta pranzando, che sta cenando, sto perdendo i colpi stasera Allora, voglio provare la nuovissima Pizza Rima Fit Già esisteva, però era completamente diversa La pizza che puoi mangiare quando vuoi, vabbè Dedicata a chi è attento al proprio stile di vita, fonte di proteine, adatto contenuto di fibre senza zuccheri Per pizza, quindi per 200 grammi, quindi tutta Ha 303 calorie, grassi 0,5, quindi proprio niente Carboidrati 23 grammi Fibre 48 grammi E proteine 28 grammi Sale 2,2 Quindi ovviamente io l'ho fatta in forno e non vedo l'ora di provarla Per quanto riguarda i valori, non mi ricordo i vecchi valori, sono sincera Allora, la prima cosa, la prima differenza che noto visivamente, ovviamente, è l'estetica L'altra era molto più alta, era molto più morbida Questa invece è molto più sottile, diciamo un pochino più biscottosa, ecco Ma vediamo, proviamo Ovviamente spesso Mi avete molto più sottile, sì Mi avete detto Giulia, ma Solitamente si sente tipo l'alcol, queste cose qua Allora, io è una cosa che faccio sempre Con i prodotti confezionati Li faccio reggiare sempre per 20 minuti, mezz'oretta Anche a volte qualcosina in più Perché è comunque normale, è un prodotto confezionato Quindi è normale che si sente un po' quell'odorino forte a volte Però poi, faccio reggiare un bel po', una volta messo in forno non si sente più Quindi assaggiamo ovviamente, l'ho condita con Fior di latte, olio, extravergine d'oliva e sugo Infatti si ha una consistenza, diciamo Oddio Grandi linee Un po' di centrale morbida E il corricione croccante L'altra invece era molto più spessa Ma assaggiamo È molto buona Essendo che è molto più sottile Quindi è stesa molto di più Il sapore è meno accentuato rispetto all'altra L'altra era proprio doppia Era proprio morbida Come se fosse tipo proprio pane centrale Però, molto buona Prima Non si è mai smentito come marchio Ha sempre fatto ottimi prodotti Comunque è molto buona Buona L'altra forse dopo un po' risultava anche molto più pesante Perché ovviamente era molto più spessa Buona Veramente buona Grazie a tutti Ovviamente Come è uguale a zero Prego ospite Quindi meglio questa? Sì Ma principalmente Ho sporcato tutto È il formato che cambia Perché ovviamente non so se avranno cambiato gli ingredienti I valori Non mi sembra che siano cambiati tantissimo Adesso io non ricordo perché sono veramente mesi Che non mangio una pazzarima Alla fine è normale Perché comunque diminuendo anche l'impasto della pizza Il sapore diminuisce Rispetto all'altro Che comunque era molto più corposa Questa sicuramente è molto più leggera Da mangiare Allora Però devo dire la verità che è molto buona Poi mi sembra che costi intorno ai 5 euro Adesso non ricordo bene il prezzo Comunque prima di tutto Io vi mando un bacione a tutte E a tutti Allora Quanto pensi? Raga non lo so neanche io Quindi non lo so Ma sicuramente sui 60 e poi Sei sorella maggiore? No Sono sorella minore Ho una sorella di 26 anni Antonella che registra i video con me 22 E io ho 20 Come va il lavoro? Non mi mento Come ti stai allenando in questo periodo? Non mi alleno da Due settimane Quasi tre settimane Anche perché ho Le giornate stanno volando Facendo 7 miliardi di cose al giorno Arrivo veramente la sera Stanca che non riesco a scendere giù E ad allenarmi Ma ovviamente Sicuramente nel periodo natalizio A grandi linee Visto che ho anticipato tutti I video a novembre Quelli di dicembre Sicuramente avrò molto più tempo libero Sempre virgolette Perché gli imprevisti Sanno sempre dietro l'ambolo E quindi spero di allenarmi Non dico tutti i giorni Ma almeno 2-3 volte a settimana Ricettine fitte E' vero che da un po' Che non faccio ricettine fitte Come migliorare La difficoltà nel socializzare Allora Secondo me è una cosa Molto difficile Anche perché A parte che ultimamente Preferisco più ascoltare Che parlare Infatti spesso mi capita Rispondo solo Quando c'è proprio Qualche argomento Che mi interessa Altrimenti Io metto lì Ascolto E poi se mi va Dico la mia Oppure no Sono a periodi Anche perché Io all'inizio Quindi parliamo 2016-2017 Ero molto timida Guarda 2018 Che ho iniziato Comunque a fare I video su youtube Eccetera Mi sono aperta Molto Quindi secondo me Sono anche Si va molto a periodi Ecco Però ovviamente Cerca sempre di stare Insieme alle altre persone Cerca comunque Di non isolarti A volte Non è semplice Socializzare Comunque Con le altre persone Quindi Anche questo Molto difficile Perché Spesso Non è che Si trovano persone Simili Comunque a te E quindi Io spesso Preferisco Starmene lì In silenzio E ascoltare E farle parlare Che è difficile Veramente difficile Trovare persone Che comunque Siano come te Quanto è durata La tua prima fase Di massa Quante calorie Al giorno stavi Quanta massa Prendesti Allora Non ricordo Ma La mia prima fase Di massa Durò Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo All'incirca 10-11 mesi E presi 12-13 kg In quei mesi Anche perché Comunque Io arrivavo da un periodo Molto difficile Alle mie spalle È un periodo Che io Sono stata Un anno Sì Sono stata Un anno Che da 66 kg Arrivai a pesare 51-52 E veramente Io Mai meno Anche di un anno E Ma veramente Mangiavo Poco Mangiavo Veramente Pochissime calorie Ricordo Che stavo tipo Sulle 1100 Per me Per lo stile di vita Che io facevo Erano veramente poche Perché considerate Che io Introducevo 1100 1200 Ma ne bruciavo Ogni giorno 5-600 Cioè io avevo Uno stile di vita Proprio frenetico Anche perché Avevo quel fatto Di dimagrire Di vedermi Bella Nella mia testa Allo specchio Di farmi uscire L'addominale Tutte cavolate Quindi Veramente Rovinai Il mio corpo E poi Da giugno 2018 Ho iniziato Comunque Ad introdurre Poco alla volta 200-250 Calorie Ogni due settimane Fino ad arrivare Le calorie Che ho introdotto Di più In una fase di massa Stava ora 2018 In cui Mangiavo 3000 Calorie Al giorno Raga Per me Era veramente Acqua fresca E come mangiarne Tipo 1000 A parte che Facevo tutt'altra vita Allenamenti Però così Poi sono uscita In 10 mesi A prendere 11-12 kg Sicuramente Non saranno stati 11-12 kg Di massa magra Massa grassa Massa magra Però Fondamentalmente Non ve lo so dire Vedevo comunque Il mio corpo Cambiare Però Associando comunque L'alimentazione Ovviamente Fate sempre Una cosa Seguite Mi raccomando Non fate mai Di testa vostra Quando poi Iniziate ad approcciarmi All'allenamento Quindi fare Alimentazione Allenamento Vedevo il mio corpo Cambiare Ma vedevo anche Il mio corpo Che stava iniziando A costruire Sì Mi vedevo gonfio Ogni tanto Però alla fine Dovevo andare avanti Perché anche io Ho avuto i miei Alti e bassi In quei periodi Cioè Ho avuto i periodi In cui Persi tanti kg In che avevo paura Dello zucchero Cioè Io non mangio Cioè facevo Un'alimentazione Tammente pulita Raga Ma Stavo attenta Agli ingredienti È giusto farlo Però quando Si diventa Troppo ossessionati Vado al supermercato Mi guardavo Tutte le tabelle A comprare Cioè Veramente Era proprio Un'ossessione Ad oggi Dico Era proprio Un'ossessione Prima per me Era normalità Ho visto veramente Il mio corpo Cambiare Tante di quelle volte Che S'arriva da un punto Che ormai Però Facendo tanti cambiamenti Non so se questa cosa Sia giusta Sia sbagliata Ma proprio in generale Ho imparato Comunque nel corso Del tempo Dal 2018 Al 2021 Quindi sono Tre anni Giusto Sì Ho iniziato Comunque A capire Il mio corpo Ad amare Sempre più Il mio corpo Ma questo Ci vogliono Sempre anni Perché posso Anche sbagliarmi L'anno prossimo No Non mi vedo Più bene Prendo un'altra Testa Cioè È sempre Un punto interrogativo Quindi non bisogna Mai Essere troppi Neanche troppo Sicuri di se stessi Ecco C'è sempre Quel punto interrogativo A volte Vabbè A questa domanda Si può dire Che giù Ho risposto Ovviamente Ci sono anche Vari video In cui Io ho parlato Nel corso Degli anni Ops Del mio cambiamento Come stai E come va Questo periodo Bene Sto bene Questo novembre È stato un periodo Che mi ha messo Veramente Dura prova Però è finito C'è un nuovo Questa L'ho fatta È stato veramente Un periodo Molto movimentato Veramente Infatti Ero parte Arrivo d'ottobre Nel dirvi Sicuramente A novembre Sarò molto assente Questo youtube Invece no Non devo che Ci do quasi Un video al giorno Ma sono usciti Anche i video A novembre Però è stato Veramente Un mese Super incasinato Poi Il tuo sogno Fin da quando Eri piccola Il mio sogno Era fare Tipo la parrucchiera Questo Mi ricordo L'unico sogno Poi alla fine Poi alla fine Non mi è piaciuto Cioè Ero convinta No Io faccio la parrucchiera Da grande È un sogno Era una cosa Molto Perché alla fine Più che parrucchiera Poi ho fatto i corsi Per quanto riguarda Olicotecnica Cioè Proprio una trama Cioè Un'altra cosa Vabbè Il lavoro Dei miei sogni Abbiamo spesso Già risposto A autorealizzarli Al 101% Ho messo Troppo olio Su questa pizza E poi C'è una domanda Che ne pensi Delle modelle Che mostrano Le loro question D con alimentazione Super sballata Allora Prima di tutto Quando voi Vedete i video Ma che siano di una modella Che siano di me Che siano anche Di un'altra persona Non bisogna mai Fare quello che fanno Le altre persone Si può prendere spunto Ma per una ricetta O per una cosa Di diverso Però mai prendere spunto Dell'alimentazione Anche perché Le modelle Seguono Tutt'altra alimentazione Fanno un'alimentazione Per il proprio lavoro E tante altre cose Io non sono nessuno Per giudicare Ma alcune cose Io non le concepisco Tante cose Di come l'alimentazione Si completa Ma povera Quindi E' sempre Un argomento Molto delicato Questo Che loro facciano vedere Ciò che mangiano A me Non me ne può fiorare di meno Cioè proprio Detto così Non mi interessa Perché anche io Faccio vedere Ciò che mangi Forse E anche io Vengo criticata Mangi troppo Mangi poco Non puoi mangiare così E bla 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 Tutte queste cose qua E la cosa Che a me Dà fastidio Non dà fastidio Però che a volte Mi fa pensare Che Se lo fa una modella Che fa vedere Un'alimentazione A volte anche Molto sbagliata Molto poco Eccetera Perché giustamente Una modella C'ha le sue calorie Quello si deve mangiare E quello vi fa vedere A lei E l'80% E l'80% Dei commenti Wow Tu così Tu così Tu così Tu così Tu con lì L'80% Poi ci sono persone Che guardano La modella Ma la modella Ma la modella Ma la modella Così per dire In generale Una persona Che ha un piano alimentare Diverso dal tuo E tu che mangi Diverso Da quella persona Ti puoi mangiare Anche quei 30-40 grammi In più di carboidrati Rispetto a quella persona Tu sei un animale No Tu No Così No Colì Ma che esempio Dai Perché Perché spesso Fanno i confronti Tra te Ed un'altra persona Cosa sbagliatissima Cosa che secondo me È anche un po' Da ignorante Fare questa cosa Quindi secondo me Ognuno è libero Di fare ciò che vuole Però Voi Che guardate Ma come anche Tutti noi Che guardiamo In altre persone Non bisogna mai Prendere esempio Si può prendere spunto Per una ricetta Si può prendere spunto Per un video Ma non copiare Proprio Al 100% L'alimentazione Di una persona Voglio capire Quale persona Vuole fare un video Perché ci sta Anche io Lo volevo fare Lo voglio ancora fare Mangio per 24 ore Come una modella E so che io Che mangio In un certo modo Soffrirò Nell'arco della giornata Sicuramente Perché ho uno stile alimentare Che non mi appartiene Allora sì Ma io Quella 24 ore La faccio un solo giorno Ma farlo Fare quello stile alimentare Copiare Uno stile alimentare Di un'altra persona Per giorni Messi E anni Quello secondo me Non va bene Poi io vi mangio L'ultimo pezzettino Sono del parere Anche perché È un consiglio Che vi voglio dare Perché io ci sono Ci sto dentro A questo mondo Prendete sempre Prendete sempre Tutto Quelle pinze Non fidatevi Mai Al 100% Di una persona Ma non solo Su youtube Ma su tutto Anche instagram Anzi forse a volte Anche pure specialmente Instagram Quindi veramente Fate sempre Un po' Come si suol dire Andate sempre Con le mani avanti Non vi fidate Mai di nessuno A mio avviso Questa pizza Era molto più buona Preferisco Questo genere Di pizza Più sottile Rispetto alla vecchia Sinceramente Mi è piaciuta Molto di più Io spero Che questo video Vi sia piaciuto E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao